andiamo a fare un massaggio un movimento tolgato, anche in mezzo il pollice, l'indice, il medico un movimento tolgato, anche in mezzo un movimento tolgato, anche in mezzo un movimento tolgato, anche in mezzo Grazie. 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 Ciao ragazzi. Grazie di essere qui con noi oggi. Oggi faremo un massaggio alle braccia. Composto da prima dei grattini semplici, poi useremo il pennello, poi andremo a fare uno scrub e andremo a idratare mani e avambraccio. Quindi partiamo dai grattini. Ditemi nei commenti se vi piace di più vedere i grattini sulle braccia. Così. O sulle mani. A me piace molto vederli sui polpastrelli. Qui. Qui. Quindi andiamo a fare un po' di grattini generali. Penso che in questo video avrò messo la musichetta un po' di sottofondo rilassante. Detemi anche se è qualcosa che vi piace o vi da fastidio. A me in certi video piace, in altri no, dipende. Non è. Nei video massaggi se è molto delicata mi piace. Ma nei video normali no. No. andiamo un po' con il pennello. Andiamo un po' con il pennello. con il pennello. Il pennello. Il pennello. Il pennello. E il pennello. E poi vado sotto il pennello. E poi vado sotto il pennello. In questo modo. E poi ancora un brazzo. In tutto il pennello. I dita. Mi piace molto anche qui. Sono lì all'interno del gomito. Che è un punto abbastanza sensibile. Ti piace? Vuoi dire sì? Sì. Ok. Anche l'altro. Delicatamente. Posso. Parlo. Edita. E alterniamo in una. Da una parte la mano e dall'altra il pennello. Andiamo un pochino anche di lato. E all'interno. questo pennello. Questo pennello. Spero lo possiate capire. È molto morbido. Questo pennello. Ok. 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 Lo scrub. Ok. Vi ho fatto vedere. Ho fatto io. Molto in modo molto semplice. Ok. Prima vado a bagnare leggermente. Tutta la zona. Ok. Un pochino. Noi. 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 Andiamo a mettere un po' di questo scrub. Fatto da sale grosso, un po' di sale fino, olio a piacere e un po' di gocce di essenza di lavanda, oli essenziali di lavanda. Andiamo a fare un massaggio molto delicato perché appunto questa è una zona delicata, quindi esercita una pressione minima. E' un bel suono. E' un po' di gocce. E' un po' di gocce. E' un po' di gocce. Ok. Ok. Facciamo anche un po' qui sopra. Ok. 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 abbiamo fatto un pompozzo, quindi torniamo subito adesso risciapiamo un'ultima volta col panno e andiamo a mettere una crema leggera è un po' oliata proprio la pelle assorbe questa è una crema corpo al tele mi piace un casino solo che fa e prendiamo un po' un altro po' e prendiamo un po' e facciamo un po' e facciamo un po' un po' un po' un po' un po' e facciamo 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 un po' e faccio un po' e faccio un po' che son tui Ok, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buonanotte, buonanotte, buonanotte sognatore buonanotte, pasticcini, un bacione che rispera buonanotte buonanotte buonanotte